Ma noi non possiamo paragonarci agli americani, la scimmia di Gabbani sarà 1,70, 1,80, gli americani c'hanno King Kong, loro sono molto più bravi, tutto è show, massimo della provocazione, riescono ad essere una provocazione anche quando fanno un incontro internazionale al vertice. Ma noi non possiamo paragonarci agli americani, la scimmia di Gabbani sarà 1,70, 1,80, gli americani c'hanno King Kong, loro sono molto più bravi, tutto è show, massimo della provocazione, riescono ad essere una provocazione anche quando fanno un incontro internazionale al vertice.